buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro webinar live di rete informatica lavoro siamo il portale il primo portale del lavoro in italia dedicato al settore informatico sono maria luce villa marketing manager di performa group di cui rete informatica lavoro a parte facciamo come sempre le prove tecniche per iniziare quindi vi chiedo di scrivere in se mi vedete sentite correttamente così possiamo partire vediamo se qualcuno ok perfetto perfetto ciao benvenuti a tutti ottimo allora oltre rete informatica lavoro oltre a essere una job board insieme alla sua academy organizza questi tipi di webinar di giovedì webinar tecnici gratuiti su diversi argomenti grazie a docenti a consulenti esterni e ad aziende come in questo caso come in questo caso di questa sera con entity data italia uno dei principali player a livello mondiale nell'ambito della consulenza e dei servizi informatici mi piace ricordare che questi tipi di webinar in particolare organizzati con le aziende hanno una duplice opportunità una prima opportunità ovviamente è quella di offrire un approfondimento e la conoscenza del mercato dell'azienda leader nel settore scoprire le tecnologie utilizzate i trend emergenti che esistono le loro applicazioni pratiche e anche conoscere i dipendenti che lavorano al loro interno la seconda opportunità cerca lavoro infatti vi offriamo quella quel canale alternativo supplementare per candidarvi e aumentare quindi la vostra visibilità presso i team HR delle aziende organizzatrici come in questo caso quindi mi raccomando quando fate l'iscrizione a questi webinar con le aziende dateci il consenso così almeno noi potremo spedire il vostro il vostro contatto alle aziende organizzatrici perfetto bene detto questo allora questa sera abbiamo quindi il piacere di riavere entity data italia e come ospite marco vitali data engineer marco eccoci eccoci buonasera marco benvenuto vedermi ok ok ottimo perfetto adesso ti vediamo e sentiamo correttamente allora il titolo del webinar è stato molto accattivante infatti abbiamo tantissime iscrizioni e partecipazione questa sera quindi orientarsi nel settore della data intelligence brevemente cosa ci farei vedere e magari con quale taglio hai voluto approcciare questo argomento? Innanzitutto grazie per avermi qui questo taglio questo approccio orientarsi è una cosa che a me piace molto ci tengo molto perché anche io ho fatto un percorso un po' fuori da quello che è quello che ci si aspetta in questo grande settore dell'IT io formalmente sono un fisico che mi sono spostato all'interno della data intelligence e quindi ho fatto fatica soprattutto all'inizio a capire un po' come è strutturato cosa si fa con che ruoli e quindi il visto che ho sofferto io la mia speranza è quella di agevolare le altre persone che seguono magari percorsi un po' non tradizionali nell'approccio quindi capire qual è lo scopo è un po' quello che faremo adesso è ripercorrere un po' la storia e cercare di fissare quelli che sono i punti importanti di quello che è il settore qual è gli aspetti che magari sembrano mutare in superficie ma alla fine sono quelli le linee guida verso cui anche il futuro ci porterà ok grazie Marco allora come sempre la chat è sempre a vostra disposizione per eventuali scambi veloci con Marco oppure per domani un po' più strutturate c'è la sezione domande mentre se avete domande organizzative direttamente al team di rete informatica lavoro sarò io in chat a rispondervi io lascio la parola a te Marco buon webinar a tutti ci vediamo più tardi grazie grazie a te perfetto giusto per cominciare una rapida carrellata di quello che è la realtà in cui opero è appunto entity data leader di compagnie di servizi di al mondo come vediamo più di 130 mila 9 mila persone su tutto il mondo 50 pesi in cui siamo presenti quindi in realtà molto vasta e molto ricca di opportunità sia di innovare che di andare a sperimentare anche quello che è il contesto di data intelligence come cresce come si sviluppa una un po' un verticale sull'italia siamo più di 5500 appunto un po' diffusi su tutta l'italia negli ultimi anni appunto c'è questa grande tendenza a crescere magari anche far saltare fuori nuove sedi è sicuramente un'opportunità questo periodo storico di saltare a bordo e seguire un po' quello che è lo sviluppo di questo settore giusto per avere un overview di quello che facciamo stasera appunto è andare a capire un attimo come si è sviluppato questo settore e andare a tenere d'occhio le parti interessanti che sono poi le parti fondamentali vedremo un po' l'evoluzione di tutte le passando attraverso quelle che sono poi le buzzword del settore che sono un po' passate un po' future in modo a contestualizzarle fondamentalmente e permetterci appunto di capire come si fa il nostro lavoro con chi ci interfacciamo che ruoli ci sono in modo poi da poter anche andare a cercare un lavoro nel settore un po' in modo più strutturato e non lanciandosi un po' all'avventura appunto il cuore del discorso appunto è orientarsi giusto chiedendo ormai la fonte della verità che offrantiamo tutti i giorni è orientamento a una definizione molto bella la seconda soprattutto che è la conoscenza della propria posizione direzione rispetto ai punti cardinali quindi essere inseriti in un contesto ed è quello che cercheremo di fare un po' questa sera quindi prendere il cuore del problema cercare sempre di contestualizzare un po' come cresce il perché cresce in un certo modo e quindi avere sempre sotto punto di vista ottenere comunque fissi in vista gli obiettivi e i motivi che sono i principali portatori di cambiamenti nel settore. Questo aspetto è sempre legato a questa bellissima quota che mi accompagna tutti i giorni la conoscenza è sapere che il pomodoro è un frutto la saggezza e non metterlo nella macedonia. Questo è fondamentalmente quello che si rischia di fare se invece si va un po' senza essere super attenti a quello che ci succede intorno quindi magari si acquisiscono competenze verticali quindi sono piccoli elementi che poi non si legano insieme quindi si perde un po' la visione di insieme si finisce appunto per fare una macedonia poco buona e appunto l'obiettivo di oggi la mia speranza è quella di permettergli di collegare un po' questi buzzword del settore un po' di ruoli figure in modo da avere una visione d'insieme quindi sapere il contesto in cui ci si muove. Per far questo diciamo partiamo un po' dal cuore del problema che cosa facciamo come data intelligence e fondamentalmente l'approccio più riduzionista che possiamo avere è questo portarci a avere delle decisioni da prendere come lo facciamo evitiamo magari di seguire l'intuizione seguire quello che magari la storia così ha sentito dire ci ha detto basare le nostre decisioni sul dato attenzione che il dato è un po' fuorviante nel senso che tantissime cose sono date ma non necessariamente sono informative quindi il dato non basta dobbiamo prenderlo andare a farci il lavoro estrarre fondamentalmente la parte che ci interessa questo ci fornisce un modo di andare a fare delle decisioni un po' migliore o quantomeno sostenute da qualche aspetto oggettivo quindi un po' anche il cuore di tutta la parte scientifica del nostro mondo e questo è un po' un settore in cui porta questo aspetto scientifico questo abbroccio razionale al mondo un po' del business che magari appunto ha sempre storicamente avuto qualche aspetto molto più intuitivo di grandi persone che hanno grande intuizione invece in questo momento storico stiamo anche puntando ad avere grandi forze basate appunto su una realtà oggettiva se questo è il cosa vogliamo fare come lo facciamo come come dicevamo fondamentalmente dobbiamo avere del dato su cui lavorare per averlo bisogna raccoglierlo immagazzinarlo in un modo coerente col tipo di dato che vogliamo elaborare e dopo di che c'è tutto un processo di estrazione dell'informazione questo ce ne sono svariate tecniche svariate forme con il tempo le tecnologie nascono sempre nuove idee nuovi modi di riuscire a andare a prendere quello che è la parte rilevante perché appunto come dicevo il dato contiene anche tantissimi dettagli che non sono per niente importanti quindi è necessario avere questa raffinatezza di andare a prendere giusto quello che ci serve e anche l'altro problema l'altro lato della medaglia che se andiamo a considerare soltanto un sotto insieme del dato senza vedere diciamo la vista a 360 gradi andiamo poi anche a prendere decisioni sbagliate quindi questo aspetto di avere il dato giusto estrarne poi le informazioni rilevanti sono un po' il cuore del discorso poi una volta che abbiamo le informazioni che ci servono per la nostra decisione per il nostro problema ovviamente se non le condividiamo non siamo capaci di esprimerle il discorso non vale la candela ci siamo fermati giusto a un passo dall'arrivo quindi anche questo aspetto di fruizione del risultato è fondamentale qui è lasciato in modo molto molto ad alto livello ma questa ovviamente un sacco di piccole sfumature che può essere non solo ad esempio un report per le figure amministrative dell'azienda che devono decidere qualche aspetto strategico del futuro dell'azienda ma può essere anche semplicemente un'altra macchina che fa delle altre decisioni quindi questo aspetto appunto è anche legato anche una vita tecnologica che praticamente unisce l'inizio del dato e la fruizione dei risultati in un anello e diventa un sistema abbastanza autonomo questo è un po il l'apice a cui stiamo puntando con con la tecnica e il modo per fare queste operazioni un po l'inizio di tutto quello che è la nostra realtà ovviamente queste bellissime tabelle di excel tutti ormai l'abbiamo visti ci lavoriamo tutti i giorni tanti di noi vorrebbero non lavorarci più tutti i giorni e come abbiamo visto qua le piccole icone dall 85 ad oggi ha mutato un po forma ha mutato un po di funzionalità ma è ancora vivo e continuerà a farlo perché perché unisce un po questi tre aspetti essenzialmente fornisce la possibilità di immagazzinare del dato poi nello specifico questo dato è strutturato come una tabella quindi ha delle righe delle colonne che possono avere appunto valori significati diversi dopodiché fornisce un mezzo per andare a fare dell'analisi poi in questo caso si parla di analisi descrittiva quindi ho un esempio posso vedere del dato storico e voglio estrarre ad esempio le medie di quello che può essere ad esempio se ci immaginiamo di metterci nei panni di un piccolo ristorantino possiamo avere questa questa volontà di capire un attimo come come sta andando il nostro business possiamo chiederci appunto che prodotti stiamo vendendo con che frequenza magari anche durante gli anni quindi capiamo cos'è il nostro prodotto di punta stagionale e cominciamo a capire un attimo come siamo messi come poi possiamo andare a fare decisioni migliori nel futuro l'ultimo aspetto appunto la fruizione del dato questo è uno strumento che permette seppur magari in forma limitata di avere delle rappresentazioni grafiche quindi in modo molto diretto per comunicare l'aspetto saliente del dato quindi va bene la tabellona però se fissiamo le tabelle così come sono diciamo è difficile capire le parti rilevanti quindi i tre aspetti che abbiamo visto prima una parte di accolta del dato una lavorazione una poi una fruizione tutti inseriti nello stesso strumento ma ovviamente diciamo che il mondo è anche andato avanti come come ci siamo accorti da tutte le buzzwork che esistono quindi quali sono un po i limiti di questo strumento come abbiamo visto fondamentalmente io devo raccogliere il dato metterlo nell'excel poi devo mettere le formule e inserire anche quelle se poi ho dei colleghi che mi fanno fare delle modifiche comincio a avere la versione 1 la versione 2 poi cambio il dato una versione 3 magari ho sbagliato le formule o una versione 4 e dopodiché appunto la rappresentazione comunque quello che viene fuori a livello di grafici e presentazione del risultato è relativamente limitato quindi se qualcuno di voi è un un fanatico del mondo di python c'è Raymond Ettinger che è un ottimo presentatore che ha questa tendenza a dire va bene questa è una soluzione però deve esserci un modo migliore di fare le cose e ovviamente c'è cosa abbiamo fatto fondamentalmente abbiamo visto quali sono i limiti un po la parte che è molto manuale come processo poi il secondo aspetto che se qualcuno magari ha voglia di fare elaborazioni diverse ha una copia dell'excel quindi stiamo copiando il dato non c'è un punto comune ognuno ha la sua copia divergono queste copie poi è difficile gestirle dopo anche la parte un po di rappresentazione gestione del risultato non è delle migliori e quindi cosa ci si fa si organizza e andiamo a formare un po quello che è una prima data platform quindi come figure ci si specializza qua cominciamo a vedere i ruoli che giocano delle parti fondamentali in questa nostra avventura cominciano a comparire data engineer diciamo poi parte di database admin e poi la parte di analisti che sono queste tre figure che formano almeno dal mio punto di vista un po il cuore del discorso e che cosa fanno come si dividono i ruoli ci sono molte parti tecniche poi c'è una parte un po più legata al business che è l'ultimo data engineer ha lo scopo un po di occuparsi di tutto quello che è la gestione del dato quindi raccolta questa raccolta poi deve essere centralizzata e non appunto in quello che sarà poi il nostro database in cui contiene tutto il dato ben organizzato e questo processo per nel nome di etl quindi è un extract transform and load come come piace agli inglesi e se vogliamo immaginarci lo possiamo pensarci come un piccolo idraulico che appunto va a attaccare dei bocchettoni alle sorgenti dei dati dopodiché con le dovute trasformazioni le rende disponibili poi a chi farà poi il lavoro di andare ad estrarre le informazioni rilevanti e la figura del dba admin comunque i administratori che poi ci seguiranno per tutta la nostra avventura sono quelle figure un po trascurate che però riescono a far stare tutto insieme una parte di manutenzione e gestione ordinaria che è fondamentale spesso un po trascurata però davvero sono delle figure inestimabili valore e sono appunto il cuore che tiene piano galla tutta la barca dopodiché ovviamente se noi ci fermassimo qui abbiamo un bellissimo dato pronto ma non è nessuno che fa quel passo in più di estrarre le informazioni rilevanti e poi presentarci quindi la figura dell'analyst è quello che lega un po il mondo tecnico dal mondo invece un po di business e quindi fa questo passaggio dall'ok abbiamo raccolto le informazioni che avevamo disponibili va bene adesso sappiamo quali sono i dettagli che ci interessano ad esempio se riprendiamo il nostro ristorante va bene possiamo una domanda che possiamo opporci a questo livello questa complessità di piattaforma di dati andare a fare analisi descrittiva quindi ad esempio le vendite non so dei piatti negli ultimi mesi così a probabilmente avere ho un'idea di di quanto i nostri clienti stanno gradendo una pietanza piuttosto che un'altra soprattutto anche legato magari al fatto che è estate piuttosto che inverno quindi ho delle informazioni sul passato riguardanti al mio business e questo mi permette di avere un'idea di come stanno andando le cose e se dovessimo rappresentare un po l'architettura di quello che è tutta la nostra piattaforma sarebbe più o meno così a sinistra abbiamo le sorgenti dei dati qua vediamo già che sono di più e di forme differenti e questo perché magari i nostri sistemi del nostro piccolo ristorante hanno database diversi hanno componenti diverse che hanno rappresentazioni diverse di quello che ad esempio un'entità di business quindi immaginiamo di avere il concetto di cliente magari la parte che va a gestire delle ordinazioni ha una rappresentazione del cliente che contiene ad esempio informazioni di dove abita e il suo metodo di pagamento comunque delle credenziali per accesso e poi c'è un'altra parte che magari sono più legate alle sue preferenze in termini di piatti che ordina spesso quindi sistemi diversi hanno informazioni diverse legate alla stessa entità io ho bisogno di raccogliere appunto da posti diversi poi trasformarli in modo che siano collegate tra di loro in modo che poi gli analisti possano estrarci il valore senza dover correre dietro a rischio recuperare tutti i pezzi il valore appunto di trasformarle caricarle in un punto solo appunto permette di avere questa visione un po più a 360 gradi del del mio business e questo è un po quanto ci permette di fare con questa architettura e ovviamente il mondo anche andato avanti cosa succede se passa un po il tempo immaginiamo di crescere col nostro business invece che avere un ristorante solo cominciamo a averne due poi ne abbiamo dieci poi ne abbiamo venti e tutto questo carico che abbiamo sulla parte della tangerine quindi sempre più fatta a forme sempre più dato da caricare a un certo punto cercogliamo di essere un po partiti col piede sbagliato perché perché abbiamo fondamentalmente scelto un po gli strumenti sbagliati le tecnologie non c'erano ancora a livello storico ci siamo presentati come una palettina invece dovevamo presentarci un po più carrozzati per riuscire a lavorare con questo tipo di dato qual è il problema che tutta la parte operazionale quindi le nostre sorgenti sono dei database fondamentalmente che hanno la necessità di lavorare su in modo molto puntuale immaginiamo sempre il nostro business il nostro utente avrà un indirizzo se lo vogliamo aggiornare a noi serve una riga di tutta la tabella di tutti i nostri utenti e bisogna aggiornare la singola riga invece dall'altra parte se noi dovessimo un attimo avere un approccio analitico ad esempio potremmo chiederci quanti sono i nostri utenti in base all'area geografica quindi non interessa la singola riga a noi serve tutta la tabella quindi sono proprio due filosofie diverse con cui approcciare al dato ovviamente usare uno strumento per l'altro non va molto bene abbiamo proprio questi problemi di performance e anche di struttura del dato perché appunto da un lato nelle parti operazionali nella mia bella palettina ho la necessità di avere del dato consistente il meno replicato possibile immaginiamo ad esempio di avere delle informazioni legate al nostro cliente se ne abbiamo su cinque tabelle quando dobbiamo modificarla dobbiamo modificarla cinque volte e non è detto che vada tutto bene quando cerchiamo di modificarla quindi se si riesce con dei processi di normalizzazione ad avere le informazioni in un posto solo questo è ottimo così all'aggiorno lì e so che va tutto bene invece a livello analitico io non ho problemi a replicare questa informazione perché non l'aggiorno più praticamente io prendo il dato degli altri sistemi e lo metto lì per analizzarlo è storico non cambia quindi ho la possibilità di andare a deduplicare le informazioni quindi copiarla nei vari posti ma questo mi permette poi di avere la parte di lettura analisi che è più facile non devo andare a recuperare le informazioni è già tutto consolidato nello stesso posto e quindi siamo pronti per fare un piccolo passo in avanti abbiamo capito che forse un database non era il massimo con cui partire quello che facciamo è sostituirlo con un data warehouse questa tecnologia appunto è fatta apposta per lavorare con molti dati più grandi con questi approcci in cui sono le nostre interrogazioni sono questioni analitiche e già cominciamo a vedere che con il dato più diverso appunto anche la struttura del dato stesso cambia viene trasformato in modo da renderlo il più facile possibile da leggere da parte degli analisti e qui si ha una prima divergenza quindi prima avevamo la figura dell'analista generico adesso purtroppo c'è troppe troppe cose da sapere troppe cose da fare abbiamo una prima divisione quindi ci sarà una parte di analisti che seguiranno più l'aspetto business quindi loro non hanno più comunque non gli è richiesta una competenza tecnica loro sanno quali sono i problemi che vogliono risolvere a livello di business quindi nel nostro caso nel nostro ristorante sono quelli che ad esempio possono dire va bene noi possiamo abbiamo proposto un nuovo piatto negli ultimi due nesi ci interessa capire se sta funzionando se sta vendendo dall'altra parte quello che può prendere il nome di data analyst è la figura tecnica che va a soddisfare poi le esigenze di business quindi è la persona che ha le competenze per andare a parlare a database fondamentalmente parlano in SQL tutti e due si capiscono si traducono le esigenze del business in questo linguaggio fatto apposta per parlare fondamentalmente con i database e data warehouse e poi fornisce l'insight fornisce le informazioni elaborate con ad esempio questo piatto non sta vendendo niente forse è meglio toglierlo e questo ci porta ad avere un'architettura un po' più più carrozzata qui vediamo che cosa è cambiato fondamentalmente non c'è più un database c'è data warehouse come abbiamo detto prima le nostre figure di analisti si sono un po' divisi sono specializzati quindi competenze verticali che crescono e come notiamo dall'icone data engineer cominciano a essere di più e anche la parte amministrativa comincia a essere un po' più complicata perché abbiamo un po' semplificato ma la struttura del dato a livello analitico prevede appunto di andare a dividerlo tagliarlo avere diversi punti di vista e questo ovviamente è tutto lavoro extra che bisogna fare rispetto a quanto avevamo magari in una situazione un po' più semplice bellissimo questa è una situazione che è andata avanti per anni funzionava benissimo fino a quando non è arrivato un po' il 2010 fondamentalmente cosa è successo grande tecnologia salta in avanti si fa tutti i data science e la rappresentazione che più si avvicina a quello che è successo è un po' questa cercare di costruire queste grandi torri di babele perché completamente è stata una rivoluzione nel modo di lavorare le tecniche che si usano anche le potenzialità che i sistemi hanno perché prima pensavamo appunto fondamentalmente a fare dei calici analisi descrittiva e invece il mondo andato avanti detto va bene è continuamente utile farlo va bene facciamo anche un passo in più non solo io so descrivere il passato ma adesso cercherò anche di fare analisi prescrittiva di andare a cercare di intuire quello che sarà il futuro come lo faccio e ho bisogno di tutti i dati che posso avere quindi non ho su soltanto i miei dati che sono quelli dei miei operazionali ad esempio le mie vendite le mie informazioni della dei clienti che sono riuscito a raccogliere ma cerco di prendere tutto quello che passa e ovviamente tutto quello che passa magari a forme molto diverse che possono essere ad esempio il click stream che ho su un'interfaccia web sul sito della nostra nostra ristorante piuttosto che altri analytics altre magari altri sistemi che vendono il dato per essere lavorato quindi un cambio totale di piattaforma di tecniche anche di strumenti perché prima diciamo che tutto il dato veniva convogliato all'interno del data warehouse e lì appunto la lingua franca era sequel quando si è passato a fare data science invece c'è stata un'esplosione di strumenti linguaggi e tecniche che appunto hanno sdoganato un po' l'uso dello strumento più opportuno perché quindi non era più facile fare tutto in sequel e come vedremo poi questo ha aperto un vaso di pandora con tantissime nuove figure tantissimi nuovi componenti e cosa è successo per gestire questa parte cerco di tirare in casa tutto il dato che posso ho bisogno di spazio per farlo il data warehouse non è fatto per caricare dato non strutturato quindi ad esempio se io dovessi gestire delle immagini video e altro non è fatto per farlo quindi serve una tecnologia nuova e serve una tecnologia nuova servono anche delle persone e figure diverse qui vediamo le nuove maestranze che ci aiutano a costruire la torre di va bene è un aspetto fondamentale che finché era il mio il dato aveva una certa fiducia nel fatto che fosse corretto e quello che succede invece adesso ampliando il parco di sorgenti del dato è che rischio di tirarmi dentro del dato che non è corretto non è buono o non è neanche coerente con il resto della mia visione quindi si crea proprio questa esigenza ovviamente se io vado a fare previsioni su dato che non è corretto la previsione sarà non corretta anche lei quindi uno dei focus principali è quello di andare ad assicurarsi la bontà del dato in entrata e quindi si crea questa figura del data quality engineer dopodiché si figura una nuova figura tecnica del data scientist che appunto quella quella figura che va a usare queste tecniche nuove quindi non soltanto modelli statistici o comunque non analisi descrittiva quindi a modelli un po più avanzati comincia anche a lavorare con una parte di machine learning e il tipo di domande che ci si pone sono diverse quindi ad esempio prima mi chiedevo quanto ho venduto qualcosa adesso una domanda ragionevole dire va bene se io propongo un nuovo piatto come venderà come sono i miei clienti qual è esempio io posso immaginare di riuscire a clusterizzare quindi andare a unire un po i gusti dei miei clienti per capire cosa potrebbe piacere o no quindi ho gli strumenti per un po dare una direzione a quelle che sono le mie scelte di business immaginare un po il futuro e andare a puntare sul cavallo vincente dopodiché questo bi developer sta per business intelligence qua il punto focale di questa figura è che quando abbiamo questa esplosione di quantità di dati e anche tipi varietà di dati stessi diventa sempre più difficile andare a comunicare il valore di quello che stiamo osservando quindi immaginate dashboard report diventa sempre più difficile riuscire a trasmettere quella parte che è davvero significativa e quindi la parte di design di questi aspetti di presentazione del risultato diventa fondamentale quindi si figura si crea proprio una nicchia di figure professionali che si occupano proprio di andare a condensare le informazioni in un modo più fluibile possibile in modo che chi magari non ha competenze tecniche quindi magari ha un background completamente di business riesca a recepire tutte le informazioni possibili da risultati che si sono raccolti in modo che poi vada a prendere delle decisioni diciamo più basate sul dato quindi c'è meno bias tra quello che può essere la presentazione del risultato e il contenuto informativo del risultato stesso e come dicevamo appunto c'è un'esplosione grandissima di strumenti e tecniche che sono a disposizione della nostra piattaforma per riuscire a fare questa raccolta e gestione del dato quindi nasce questa figura del data architect che cerca di in un certo senso imbrigliare il gruppo di lavoro e andare a scegliere le tecnologie su cui puntare quindi cercare di limitare la varietà di strumenti che vengono usati un po' per riuscire a non impazzire e avere le persone all'interno del team che riescono un po' a capire e muoversi agilmente e poi fornisce delle belle metodologie e procedure in modo che questa piattaforma che si sta andando a creare quindi accumuliamo sempre di più righe di codice, programmi, applicativi che gestiscono il dato se sono il più armonizzate possibile, il più simile possibile tra loro la questione diventa un po' più facile da gestire quindi un aspetto puramente di cercare di mantenere la sanità mentale quando appunto si ha un'esplosione pazzesca sia del dato che stiamo raccogliendo che anche la complessità nel gestirlo e raccoglierlo il cuore appunto della nostra data platform se prima era un data warehouse che conteneva soltanto dato strutturato diventa quello che ha chiamato data lake cos'è fondamentalmente? è più un grande contenitore in cui posso buttarci tutto quello che riesco a trovare fondamentalmente ha una struttura un po' diversa perché non sono più tabelle con tutte le strutture al contorno tipiche di un database ma sono fondamentalmente dei file quindi riesco a, ovviamente un file può contenere qualsiasi contenuto che siano righe di una tabella piuttosto che un contenuto binario come una foto e la struttura è un po' fatta come se fossero degli strati quindi c'è una parte raw, diciamo che è il dato grezzo che ho raccolto questa viene elaborata, viene pulita se ci sono dati inconsistenti, cose che non tornano dati non buoni vengono scartati si arriva a uno strato diciamo intermedio che di solito è chiamato trusted e da qui in poi il secondo passo da trusted a refined è quello che va appunto come dicevamo a ricostruire una struttura che è adeguata poi per fare le analisi e questo si inserisce nel contesto della nostra struttura globale in questo modo quindi vediamo che abbiamo le data sources sempre a sinistra qua abbiamo aggiunto un nuovo dato che ci arriva c'è sempre una fase di estrazione questo dato viene caricato prima sul data lake e come notate la parte di trasformazione adesso non è fatta subito ma è fatta il più a destra possibile perché questo? perché quando io trasformo del dato rischio di perdere dell'informazione quindi nell'esigenza di tenerla il più possibile io vado ad applicare le trasformazioni soltanto nell'ultimo momento quando do proprio la necessità di farlo e quindi sia la parte che si porta verso il data warehouse che c'è ancora non l'abbiamo perso perché la struttura di dati tabellari c'è ancora il data lake è appunto una nuova struttura che non è così facile da interrogare quindi rimane questa parte di trasformazione data warehouse con sempre le solite figure che abbiamo visto data analyst e business analyst con in più il nostro BI developer che si occupa un po' della parte grafica di trasmetterle informazioni e quello che abbiamo aggiunto invece è questa parte superiore della parte data science appunto alla necessità di avere il dato grezzo perché lì ci sono più informazioni nei modelli di machine learning hanno bisogno di tutte le informazioni possibili quindi hanno bisogno in un qualche senso di accedere a questi dati trasformarlo in modo molto particolare in base un po' alle esigenze dei modelli e questo fondamentalmente ci porta a questa architettura che è molto più complicata come vediamo fondamentalmente qui si ha sempre questa tendenza ad aggregare il tutto in un posto solo le sorgenti sono varie disparate però si arriva al data lake che è uno quindi un accumulo in un posto solo in modo che sia tutto fruibile ai sistemi a valle e vedremo poi questo come ci scapperà un po' di mano a questo punto il nuovo passo è quello di avere il dato non solo che passa nel pipeline questo per ora abbiamo considerato diciamo dato in batch quindi immaginiamo di avere il nostro sempre il solito ristorante lavora da giorno fino a dopo cena dopodiché abbiamo i sistemi che vanno a raccogliere il dato dopo cena elaborano e forniscono i risultati fino alla mattina dopo questo semplifica un po' le operazioni ma ovviamente ci sono un sacco di aspetti che possono essere gestiti soltanto quando il dato si muove velocemente attraverso questi sistemi analitici perché immaginate ad esempio di dover fare delle previsioni dei suggerimenti negli acquisti ad esempio se una persona va sul sito del ristorante io vorrei poter magari capire un attimo qual è il suo profilo in modo da poter magari adattare anche i contenuti a quello che sono i suoi interessi le sue capacità e ovviamente non posso aspettare un giorno per dargli un contributo o un contenuto adattato devo farlo molto rapidamente ci sono anche un stato di opportunità che sono legate appunto al fatto che il dato in certe occasioni perde di valore se non riesco a lavorarlo rapidamente e quindi c'è questa tendenza questa evoluzione di queste piattaforme dati ad avere non solo una parte che lavora in batch come abbiamo visto prima ma creare tutta una nuova componente che è quella che va a lavorare col dato in streaming cosa vuol dire? io cerco di prenderlo e lavorarlo il più velocemente possibile questo perché appunto c'è un sacco di valore che io posso raccogliere in quel momento e come si fa a fare questa parte appunto c'è una parte infrastrutturale nuova perché appunto le tecnologie sotto sono diverse le esigenze sono diverse e i requirements tecnici sono diversi quindi ho aggiunto tutta una serie di altri strumenti che prima non avevo e ovviamente la parte di gestione di questi strumenti ricade un po' sulle spalle di quelli che sono i nostri data engineer quindi non solo devono gestire tutta la parte che c'era prima che ovviamente nel tempo diventa sempre più complessa le sorgenti sono sempre di più le dipendenze anche tra le sorgenti diventano sempre complicate si aggiunge tutto questo separato flusso che si occupa di avere il dato hot quindi veloce che deve passare attraverso tutta la piattaforma il più veloce possibile e non solo passa al dato ma viene anche accumulato perché ad esempio potrei avere delle elaborazioni che hanno dei problemi magari ho sviluppato del software dei bacchi producono dei risultati che non sono corretti quello che vorrei fare è anche ad esempio poter riprendere il dato che ho già elaborato rifarlo passare magari una versione dentro una versione di software che è stata corretta e riavere un po' il dato corretto quindi in un certo senso ho riduplicato un po' quello che è il flusso di dati e non solo c'è un altro aspetto fondamentale che quando io ho del dato in movimento non posso permettermi ad esempio di aspettare cosa vuol dire che ad esempio se andiamo a considerare delle finestre temporali ad esempio prendo tutte le informazioni tutti i messaggi che mi arrivano ogni 5 minuti una volta che quei 5 minuti sono passati io devo elaborarli non posso aspettare che qualche messaggio che magari si è perso in rete mi arrivi quindi l'elaborazione rapida porta ad avere anche degli errori quindi il dato che questi latecomers che riesco a recuperare soltanto a tempi successivi io non posso accorgermene quando devo per forza correre quindi un consigliamento di questo dato all'interno del data lake è comunque necessario poi la parte un po' di più analisi che è legata poi alle potenzialità che il dato in movimento mi permette di esprimere è quello di applicare questi modelli di machine learning quindi ho ad esempio nel nostro supermercato o comunque nel nostro ristorante possiamo immaginare di appunto fare le proposte al nostro cliente quindi ad esempio una funzionalità del vai sul sito clicchi mi sento fortunato e ti proponiamo dei piatti che sono legati un po' a quello che hai mangiato prima magari quello che hanno mangiato utenti che hanno più o meno le tue stesse caratteristiche è un'operazione che appunto richiede di processare il dato molto velocemente e richiede anche di mischiare quello che è il dato veloce con la base dati che ho sotto quindi ad esempio lo storico di quello che si è ordinato sempre sul sito e la figura che si occupa un po' di questi aspetti è quella del machine learning engineer che ha un ruolo abbastanza difficile perché appunto la componente di machine learning produce dei modelli che sono addestrati su del dato e purtroppo per fortuna le tendenze cambiano quindi la capacità predittiva di un modello nel tempo va deteriorandosi quindi c'è sempre la necessità di monitorare quello che è la capacità predittiva del modello e andare a riaddestrarlo quando necessario quindi c'è una complessità nascosta dietro queste infrastrutture ad esempio anche semplicemente se prendiamo un telefono e cerchiamo con google la strada i sistemi che ci sono dietro sono molto simili a questi io ho chiesto un'informazione ad esempio come arrivare da A a B e google cosa fa la necessità di integrare sì lo storico di informazioni le strade che ci sono i tempi di portanza media ma anche la necessità di andare ad aggiornare queste informazioni con quello che può essere ad esempio un incidente che è successo 5 minuti fa quindi mischiare tutte queste informazioni avere un suo algoritmo che permette di andare a calcolare con delle oristiche qual è il percorso più conveniente adesso e fornirmelo come risultato quindi per noi utenti sembra banale e sotto dietro c'è una piattaforma estremamente complessa se vogliamo ritornare un po' a quello che è la visione d'insieme di tutti i componenti e come si parlano si arriva a avere una struttura di questo tipo adesso è difficile un po' vederlo però sono dette lambda architecture quindi sono divite in due abbiamo la sorgente all'inizio poi ci sono due rami quello superiore appunto che si occupa dei dati streaming processato il più velocemente possibile perché è lì che c'è il valore poi vediamo che va dentro la parte di machine learning e poi da lì tornerà a fornire dei risultati agli utenti finali o anche soltanto agli utenti di business immaginiamo anche i sistemi antifraude funzionano in questo modo dato rapido ad esempio una transazione arriva al modello di machine learning lui consulta lo storico delle transazioni con caratteristiche simili e rapidamente deve scegliere se ha una fraude e poi il risultato viene reinserito come vi ho detto all'inizio i fruttori delle informazioni non sono necessariamente persone possono essere altre macchine come può essere una parte che blocca la transazione se è considerata sospetta e come vediamo siamo partiti con un'infrastruttura molto semplice e man mano che andiamo avanti qui la situazione si fa abbastanza complicata le figure che si ruotano intorno sono sempre di più la complessità tecnica è cresciuta esponenzialmente qui ovviamente una rappresentazione molto semplice ma appunto dietro ci sono architetture cloud linguaggi diversi vendor diversi database diversi data warehouse diversi c'è una ovviamente una varietà infinita in base agli specifici dettagli che sono rilevanti da caso in caso e questa è più o meno la pittura di dove è almeno nella mia esperienza dove sono i maggiori clienti con cui ho lavorato quindi grande complessità esigenze di questo tipo quindi di fare analisi descrittive analisi predictive e dopodiché appunto cercare di integrare il tutto e tirare fuori il valore dal dato in movimento e che cosa succede da qua in poi cos'è che sta muovendo i passi verso il futuro questo aspetto di andare a semplificare la questione abbiamo visto che man mano che aggiungevamo funzionalità si è andata a complicare tutta la struttura quello che la tecnica ci permette a un certo punto di riuscire andare a unificare gli aspetti semplificare gli strumenti in modo da fornire un po' una visione d'insieme uno strumento solo per andare a curare vari aspetti che magari tecnicamente dieci anni fa quindici anni fa non era possibile fare una delle ultime diciamo strutture che sta emergendo è quella del lake house cosa ci permette di fare fondamentalmente di andare ad astrarci rispetto a quello che sono le rappresentazioni precedenti e andare a unificare il mondo data lake e il mondo data warehouse e questo è un'ottima cosa perché se ricordate nell'infrastruttura ci sono un sacco di componenti diversi invece così riesco a unificare tutto e non solo ho un posto solo dove ho tutto il dato non ho bisogno di rilavorarlo e caricarlo in un sistema diverso quindi non ho bisogno di copiarlo un'altra volta e ho anche soltanto una lingua franca con cui parlare strumenti di questo tipo magari ad esempio riportano ad avere la maggior parte degli utenti e la maggior parte delle figure tecniche che ad esempio parlano del SQL quindi semplificare anche molto quello che è il codice che sta dietro tutto questo un altro aspetto invece un po' trasversale rispetto a questo è quello quello di andare a applicare un po' quello che è la data mesh e che cosa vuol dire data mesh abbiamo visto che abbiamo un'infrastruttura molto complicata ci si è resi conti un po' che comunque sempre di dato stiamo parlando però il dato interessante è quello che porta dei contenuti informativi e qualcosa di significativo quindi invece che avere un data lake gigante con dentro tutto il dato quello che si va a fare è non fare una pila gigante con tutti che lavorano lì ma andare a separare gli aspetti salienti quindi si creano dei domini autocontenuti ecco vediamo questi domain separati in cui tutta la filiera diciamo dell'analytics è autocontenuta quindi il risultato saranno delle tabelle sono dei report delle informazioni già che sono state elaborate sono già magari sono delle dashboard che vengono fornite e in questo modo diciamo la complessità si riesce a ridurre molto perché all'interno di un domain ovviamente ho sempre tutti i vari tipi di dato che devo lavorare magari parti veloci magari parti no però hanno un contesto molto più piccolo soprattutto appunto sono legati da uno stesso diciamo contesto logico quindi non ho più un data lake che tende a diventare un data swamp quindi una palude di dato che non so da dove è arrivato non so di che qualità è invece così ho dei piccoli orticelli in cui è tutto organizzato e quello che è l'output viene condiviso in una maniera standard quindi qua vediamo dei blocchetti ma appunto c'è una grandissima possibilità di unire questi blocchi intercomunicare appunto formando una rete e questo è un po' quello che stiamo cercando di fare lì nella comunità quindi siamo passati dall'avere una piattaforma una per tutti dove tutto il dato viene raccolto e adesso stiamo tornando un po' sotto certi punti di vista indietro come all'inizio avevamo tante sorgenti diverse le abbiamo aggregate in un posto sola ora le sorgenti va bene sono ancora diverse andiamo a costruire altri domeni altre piccole aree in cui c'è fondamentalmente come se fossero sorgenti di dato analitico e in questo modo però riusciamo a dominare un po' quello che è la complessità tecnica delle nostre piattaforme e in questo modo un altro aspetto molto interessante è che i team si sono divisi prima avevamo un team enorme di ingegneri separato dal team enorme di analisti adesso abbiamo poche persone magari che collaborano molto più strettamente questo permette anche di riconoscere il valore del dato e trasmetterlo in modo molto più semplice perché altrimenti quello che succede di solito è che ci si verticalizza molto si mette un po' il paraocchi si ha soltanto il contesto piccolissimo di quelle che sono le operazioni quotidiane si perde un po' il senso di quello che si sta facendo invece in questo modo andando a ristrutturare il team quindi si ristruttura proprio tutto il settore dell'azienda che lavora sulla data intelligence in modo da avere queste piccole unità funzionali che portano subito ad avere del dato di valore e dopo di che queste unità possono essere aggregate possono essere opportunamente collegate in modo da creare magari i risultati più complessi e l'aspetto poi fondamentale di questo mondo è che appunto il futuro è già qui solo che non è uniformemente distribuito è una cosa bellissima che mi ha accompagnato molto anche nella carriera perché come abbiamo visto ci sono infrastrutture diverse complessità diverse e non siamo tutti arrivati diciamo all'ultimo livello l'ultima complessità l'ultima versione di questo mondo ci sono tantissime realtà che non hanno esigenze così complicate ovviamente non incorrono nei costi di andare a rincorrere l'ultima tecnologia ci sono altri posti invece hanno idee diverse idee migliori sono andati avanti hanno qualche idea qualche qualche intuizione su come fare queste operazioni come gestire quello che è l'infrastruttura che noi non abbiamo ancora visto nel mondo della consulenza diciamo si ha la possibilità di viaggiare anche nel tempo in un certo senso quindi cambiando realtà in realtà è la possibilità di vedere i vari livelli complessità di quello che è lavorare nel mondo della data intelligence in queste realtà diverse quindi si ha la possibilità di vagabondare andare a raccogliere un po' la parte più interessante e formarsi anche in questi aspetti che sono anche molto culturali che appunto lavorano magari su un verticale si va a perdere quindi si finisce per avere un'ottima conoscenza ma pochissima saggezza e questo fondamentalmente era un po' il percorso che volevo fare con voi ovviamente come grandi aziende di consulenza siamo anche qua per trovare qualche persona che è interessata e vuole entrare un po' a bordo con noi a portare avanti un po' quello che è la nostra missione di portarsi verso sempre architetture più efficienti più pulite più funzionali e che riescono proprio a tirare fuori il maggior valore possibile dal dato che viene raccolto e adesso possiamo lasciare lo spazio alle domande visto che qualche domanda c'è grazie Marco allora lasciamo la slide attiva così almeno possono collegarsi al sito del carriere di entity allora andiamo nella sezione domande ce ne sono un po' sei nella sezione giusto Marco? si vediamo vedo Ornella che cede vai da Ciro partiamo dal basso ok grazie se riesci a leggerla così la leggiamo per tutti database loader si questo è un riferimento all'inizio tendenzialmente all'inizio erano relazionali ovviamente poi il mondo è andato avanti c'era la paletta contro il trattore è un po' quello era il discorso ora appunto le tecnologie che abbiamo disponibili tendono a farci caricare il dato in una struttura che è un po' più flessibile possibile se vogliamo fare un piccolo giro tecnico appunto sono sistemi magari che sono distribuiti che hanno sopra un engine di compunazione separato dal dato e questo ci permette appunto di essere anche molto scalabili molto veloci con delle performance decisamente superiori rispetto ad avere un semplice database relazionale buonasera che figura tra quelle citate consiglieresti un junior java developer un po' dipende dal da quello che ti piacerebbe fare adesso io nella presentazione ho dovuto un po' tagliare qualche qualche piccolo angolo eccetera però c'è un un intero mondo legato allo sviluppo di quello che è il software che permette di costruire queste data platform c'è tutto il filone della DevOps diciamo in cui c'è almeno a mio avviso un grande mercato e che cosa si occupano di fare fondamentalmente unire quello che è il mondo dei developer quindi con le competenze da junior developer quella è una strada ci si mette il piede dopodiché quello che si passa a fare non soltanto vedere il piccolo orticello della parte di sviluppatore ma unire lato di sviluppo con quello di operazioni quindi avere una visione più a 360 gradi di come il codice che sviluppi si inserisce nel contesto di applicazioni quant'altro che c'è all'interno della piattaforma ed è una figura estremamente richiesta quindi se fosse in termino poi legato anche alle mie inclinazioni personali quella è una via sicuramente che vale la pena percorrere dopodiché torniamo a Ornella Ornella io vorrei avere qualche consiglio per potersi affermare come data engineer il discorso appunto è che che cos'è un buon data engineer dal mio punto di vista ha la capacità di cercare di guardare verso il futuro qua abbiamo provato un po' molto rapidamente a seguire un po' l'evoluzione come abbiamo visto io ho un po' citato quella che è la direzione in cui si sta andando sicuramente avere la capacità di guardare le tecnologie che ci sono come strumenti per un fine invece che focalizzarsi un po' sul strumento stesso è un vantaggio in più che si ha rispetto magari a delle altre persone che magari sono super verticali su una tecnologia però purtroppo rimangono attaccate a quello strumento quindi quando passa di moda quando passa un po' si evolve verso strutture migliori si rimane un po' indietro quindi la mia suggerimento è cercare sempre di rimanere il più in alto possibile a livello di descrizione metale e struttura di come funzionano le cose in modo da poter capire appunto qual è lo strumento che va bene cosa non va più bene e riuscire un po' a navigare questo futuro in cui appunto le piattaforme quelle abbiamo viste un po' statiche ma quello che succede poi nella realtà quotidiana è che ogni giorno arrivano strumenti nuovi risolvono problemi che abbiamo quotidianamente e quindi c'è un continuo cambiare un po' la parte che è meno performante con qualcosa di più performante Luca quali sono gli strumenti software maggiormente utilizzati da un data engineer diciamo come strumenti software passiamo a pensarli un po' divisi come linguaggi con cui scrivere il codice e in questo caso il parco che almeno io uso nel quotidiano è un po' a scala per quello che riguarda un po' il mondo legato a Spark che è fondamentalmente uno dei principali strumenti che permettono di fare computazione su grandi modi di dato Python per tutto quello che è il mondo invece legato a data science e ovviamente SQL non ne verremo mai fuori come Excel ci perseguiterà fino all'ultimo dei nostri giorni quindi lato linguaggio è questo come strumenti diciamo un po' più come librerie framework e altro già citato Spark sicuramente ovunque quindi è fondamentale se sei più interessato magari al mondo streaming e quant'altro sicuramente saper usare anche librerie come Kafka come altre è una marcia in più ok Pasquale mi piacerebbe sostenere un colloquio come data engineer come faccio bella domanda ci sono molti modi ci sono molti opportunità ad esempio scrivi ai contatti che abbiamo lasciato o ci sono anche altri colloqui di gruppo in cui puntualmente andiamo a cercare figure come data engineer poi i nostri colloqui diciamo sono un po' anche particolari nel senso che non siamo magari super verticali quindi la possibilità di cercare di entrare in azienda poi una volta che si è dentro la persona viene prima del ruolo quindi gli aspetti un po' di inclinazioni personali permettono di mutare carriera rapidamente almeno a livello della realtà che conosco poi Francesco chiede il data lake può essere visto come dati riconciliati dell'architettura tra livelli non ho capito benissimo la domanda se vogliamo ottenere la che avevamo prima in un certo senso il data lake ha una struttura un po' diversa dal dvh perché il dvh tende ad avere proprio queste ristrutturazioni del dato in modo che sia facilmente poi analizzabile il lato invece del data lake c'è sempre la tendenza a tenerlo un po' più flessibile possibile almeno poi l'ultimo stato il refined invece in quel senso potrebbe andare in quella direzione in cui appunto si cerca di andare a fornire direttamente quello che viene poi utilizzato si elabora una volta il dato si fa la maggior parte del lavoro lì per poi quindi scaricare un po' quello che è l'analisi che viene dopo ok Sergio ci sono un po' di domande Marco speriamo di rispondere a tutti che cosa intendi come case use case se riesci a adesso non so come ma se riesci a darci qualche dettaglio in più sarebbe ottimo Dino invece dice grazie cerchiamo anche java developer ovviamente java è uno strumento io sono di questa idea tu conosci un linguaggio oggi domani te ne servono altri 5 quindi l'importante non è fossilizzarsi sullo strumento sul linguaggio è la capacità di apprendere quindi sei benvenuto puoi provare a entrare e come ci si potrebbe iniziare da java developer specializzarsi diciamo il principale driver è la curiosità come hai visto adesso ci sono un sacco di tecnologie un sacco di possibilità un sacco di strumenti comincia magari dalle basi prenditi ad esempio uno spark di turno che è un tool che viene usato ovunque scendi un minimo sul verticale per avere delle competenze spendibili dopodiché ti renderai conto magari che l'aspetto un po' di tecnica è in certo senso un aspetto non così fondamentale quando entri in azienda perché c'è sempre un periodo in cui le mancanze che hai a livello tecnico vengono colmate quindi non sarei tantissimo preoccupato per questo mi lancerei e dopodiché quello che è importante fare è riuscire a prendere in fretta una volta che ti viene dato magari qualche input qualche direzione da prendere allora si bisogna lavorarci e prendere e seguire la direzione io sto lavorando come analista funzionale programatore Java conosco abbastanza SQL avrei qualche corso certo come dicevo c'è questa tendenza negli ultimi anni a cercare di semplificare tutto quello che è la realtà della data intelligence quindi avendo ad esempio forti competenze SQL adesso con gli strumenti che stanno emergendo si è usciti magari dalla porta all'inizio si sta rientrando dalla finestra perché appunto tanti strumenti ora permettono di fare la parte di data engineering con SQL quindi sicuramente ci sono opportunità e si tratta un po' di guardare un po' il panorama delle tecnologie emergenti quindi capire un attimo dove sta andando il futuro anticipare un attimo i tempi e con ogni probabilità troverai un sacco di opportunità che cercano quelle competenze verticali in l'ottica del data lake come vede nel futuro il link è data il link è data detto così posso interpretarla come la possibilità di condividere del dato in modo facile come abbiamo visto la direzione del futuro comunque è avere un data mesh quindi io costruisco del dato di valore e dopodiché io posso condividerlo in modo standard quello che abbiamo visto magari in una presentazione un po' più legato alla singola società ma nulla mi vieta di condividerlo con altre società quindi andiamo a creare quello che è fondamentalmente un marketplace di dato e questo sicuramente è qualcosa che sta succedendo è un po' la direzione del futuro quindi vado non soltanto a avere il mio business principale ma posso anche vendere il dato che ho collezionato mentre facevo il mio business e appunto in qualche parte del mondo è già realtà in altre arriverà lavoro con Kulik da 25 anni mi sono proposto svariate volte ma non ho riuscito a fare un colloquio un collega in questo istatto che studia ingegneria il secondo anno è stato studio del assunto mi dispiace purtroppo Marco non è un HR in questo momento servirebbe Giancarlo allora se hai ci hai dato il consenso ti aiuteremo a a dare più visibilità al tuo contatto tramite rete informatica lavoro quindi inviaci la candidatura inviaci il CV e cercheremo di inviare il tutto alle business unit di HR di entity data quindi quando avranno opportunità aperte ovviamente sarai tra i candidati quindi non mollare allora andiamo avanti perché ci sono 12 domande ancora quindi vorrei scrivere tornato use case appunto diciamo che nel mondo della consulenza in cui sono io molti temi non sono diciamo direttamente a carico nostro nel senso che si entra in progetti la probabilità che si entri su qualcosa di nuovo è abbastanza bassa perché la maggior parte delle aziende hanno già qualcosa quello che succede tantissimo in questi anni è che si passa da quello che si fa che si entra magari a un livello in cui hanno una piattaforma che è un po' sul stile del del dvh magari sono macchine o comunque sono prodotti licenziati da cui vogliono un po' allontanarsi quello che c'è appunto il grande tema è il passaggio della migrazione al cloud quindi si passa da quell'architettura a qualcosa di più simile a un data lake questo è il grosso del lavoro almeno che ho visto in questi anni quindi non siamo molto vicini alla frontiera delle ultime tecnologie delle ultime versioni dovete immaginare il fatto che comunque sono tutte piattaforme molto grandi con molto dato con molte persone che ci lavorano quindi la capacità di adattarsi e seguire gli ultimi modelli gli ultimi rinnovati è comunque abbastanza limitata soprattutto più è grossa la realtà e più farà fatica questa ad adattarsi ok credo che siano finite le domande ok che ce n'è un'altra scusami l'ultimissima grazie mille quella di Luca dai Luca dice è possibile partire ricoprendo un ruolo per poi durante il percorso in TTI mediante la formazione interna passare a un ruolo diverso certo come dicevo l'aspetto che a me piace di più della mia società è che l'uomo viene prima cosa vuol dire che entri con delle competenze entri con un po' il tuo passato e quello che ti porterà poi ad andare avanti non è tanto il ruolo con cui sei entrato ma la tua capacità di capire in che contesto sei andare a trovare ad esempio in un progetto magari ti piacerebbe un po' passare ad esempio da un aspetto da data engineer a spostarsi verso magari una parte più di visualizzazione magari cambiano un po' i tuoi interessi se appunto questo è quello che vuoi fare sicuramente ci sono opportunità che ti vengono proposte se fai presente questa tua esigenza ma ancora meglio se sei capace di trovare l'opportunità per farlo quindi se trovi dei vuoti nei progetti se trovi quegli spazi che puoi in modo proattivo colmare sicuramente questo ti aprirà un sacco di porte qui in azienda l'ho fatto io quindi sicuramente non è che entri con un cartellino addosso e rimani vincolato a quello ottimo Marco grazie mille allora Pasquale l'ultimo che ci ha scritto ha trovato molto interessante effettivamente è stato molto chiaro e un webinar veramente interessante infatti le domande erano tantissime siamo in chiusura però quindi ringrazio Marco Vitale ecco un altro Samuele dai vediamo se riesco a da dei consigli per farne altri ok magari chiederemo proprio ai colleghi anche ai colleghi di Marco ok perfetto allora io come sempre condivido in chat anche il nostro canale YouTube dove da domani mattina ci sarà la registrazione di questo webinar come sempre vi invitiamo a consultare le offerte di lavoro su reteinformaticalavoro.it dove ovviamente c'è anche Entity Data potete seguirci su tutti i canali social e essere aggiornati quindi con le nostre iniziative e anche le offerte di lavoro ringrazio quindi Marco Vitale e Entity Data per essere stati con noi e vi aspettiamo al prossimo webinar grazie e buona serata a tutti ciao Marco grazie